Si può ancora sostenere, come dice l'opposizione, che queste manifestazioni sono per lo più pacifiche, Luca Sommi? Io sono un antiproibizionista, nel senso che secondo me proibire le cose non funziona. Ad esempio, quando c'era l'ipotesi di abolire e cancellare Casa Pound, io sono contrario, perché Casa Pound se esiste e se la si vuole controllare è giusto che esista, non bisogna cancellarla. Così un po' per le manifestazioni, la Costituzione è molto chiara, all'articolo 21 dice che ognuno può esprimere la propria opinione nelle modalità che preferisce, ma il 17,3 è precisissima, dice che se uno organizza una manifestazione in luogo pubblico deve darne un previso alle autorità, e gli è stato dato, e le autorità possono evitare solo con comprovate motivazioni di ordine e incolumità pubblica. Comprovate non vuol dire supposte, teorizzate, vuol dire comprovate. Allora, se noi pensiamo che in qualsiasi manifestazione di sinistra, sappiamo che ci saltano fuori quei 20, 25 black bloc che fanno casino, 30 andrebbero proibite tutte, però così si va in un piano anticostituzionale. Secondo me se tu lasci fare un'organizzazione di una manifestazione, qualunque essa sia, di destra, di sinistra, io sono per la libertà, tu lasci fare la manifestazione, ma la monitori in modo molto peculiare e preciso, perché l'ordine pubblico aspetta il governo, secondo me è meglio che vietarla, perché col divieto, come accade spesso, e tu l'hai citato prima, viene voglia di superarlo. Continueremo ad essere lì per garantire questo diritto. Luca Sommi, che impressione ti fa quello che ha detto il rappresentante delle forze dell'ordine? Piena solidarietà alle forze dell'ordine, contro chiunque manifesti violenza o faccia violenza nelle piazze, però dobbiamo essere realisti, dobbiamo capire come si può fermare questa piaga. Proibendo le manifestazioni non accadono gli incidenti? No, accadono. Allora, visto che tu prima hai evocato gli stadi, come hanno fatto, gli stadi soprattutto penso a quelli inglesi, come hanno fatto a reprimere, diciamo a far fermare quell'onda di tifoseria violenta? Non l'hanno fatto con la repressione, l'hanno fatto con l'identificazione. Cioè hanno identificato e hanno represso con i DASPO coloro che erano pericolosi, ma non l'hanno fatto raddoppiando le forze dell'ordine o proibendo le manifestazioni o non facendo andare le persone allo stadio. Allora, identifichiamo quei 50 che hanno compromesso la reputazione pacifista degli altri 10.000, li identifichiamo e non li facciamo andare più in piazza. Proibendo la manifestazione di piazza accade quello che sta accadendo, quindi non funziona. Io ho tutta la solidarietà con lei e con tutte le forze dell'ordine, ma bisogna ragionare, non bisogna farsi prendere dallo spirito così emotivo. Bisogna ragionare e attraverso il ragionamento si arriva a una soluzione. Così non ci si arriva a nessuna soluzione. Se li identificassero, il giorno dopo fossero andati a prenderli e li avessero messi in carcere, tu saresti il primo a dire che in Italia c'è la dittatura. Ma no. Ma sì. Chi conti e violenza in una piazza? No, dai Pietro. Ma dai, ci si conosce. Vabbè, allora, sì certo. No, 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 non dica allora, sommi. Ma sinistra direbbe, c'è la dittatura, non si può manifestare. Ho detto non accavallatemi, ma non voglio fare un mortorio. Cioè, se c'è da discutere, discutete come. Sto dicendo che la questione è sul vietare la manifestazione, non risolve il problema. Se qualcuno compie un reato o se qualcuno si fa soggetto di violenza dentro una piazza, io sono per perseguirlo e per punirlo. E tu mi daresti del giustizialista, io invece sono legalitarista. Perché, scusami Luca, cosa succede? Come lo punisci? Tu gli impedisci di tornare in piazza il giorno dopo, no? Se io identifico che ha fatto violenza in una piazza, gli do un baspo per 15 anni e non mette piede nelle piazze dove ha fatto violenza.